Benvenuti o bentrovati all'interno di questo libro quiz, il libro quiz della settimana, il libro numero 81, anzi di metà settimana perché siamo al 14. Mi stavo perfettamente dimenticando che di libro quiz ce n'è uno della settimana e un altro che è questo di metà settimana. Comunque, chiacchiere futili a parte, eccovi la recensione. Come si fa ad ammazzare un uomo? Le risposte sono tante. Si può creare un incidente, si può dare un colpo in testa, si può sparare con una pistola o con un'arma da fuoco di altro tipo, ma se questo uomo è un uomo importante, per non dire un capo di stato, come si può fare ad ammazzarlo? Si assolta un killer e gli si dà l'incarico, ma si può prendere un killer qualsiasi per un colpo simile? No. Bisogna seguire la narrazione e capire quanto è difficile essere un assassino e quanto è altrettanto difficile essere il poliziotto che lo vuole catturare. Si è largo e attingete a piene mani alle vostre culture letterarie per capire di che libro stiamo parlando. Con questo vi saluto, vi rimando a lunedì per la soluzione del libro quiz e tanti cari saluti. Ciao ciao!